Per diventare grande, un'impresa ha di fronte diverse strade. Crescere in competenze e capacità senza variare nelle dimensioni. Collaborare con altre imprese. Utilizzare un incentivo o una condizione favorevole del mercato. Acquisire un'altra impresa. C'è un dinamismo positivo nel mercato italiano che vede protagoniste anche le medie imprese, sia pure con un basso valore delle operazioni finalizzate e un clima di fiducia crescente nelle imprese in tutti i principali settori. Emerge il bisogno di un dialogo inedito tra imprenditori, università, partner finanziari e manager. Per afferrare le leve di una crescita sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ecologico. Per uscire dal proprio mondo condividendo esperienze e segreti del proprio lavoro. Per trovare la giusta dimensione e continuare a competere con successo. Fabbrica per l'eccellenza è il canale per amplificare questa fiducia.